Bene a tutti ragazzi, rieccomi in questo nuovo video di Minecraft Hunger Games Allora, sono in questa mappa anzi e non so di che cosa si tratti, via tu Veramente non so proprio che mappa sia, quindi... Nella prima volta che la gioco, speriamo in bene, andiamo a cavolo Ah, è sparita pure la roba che ho preso, ecco Eccolo la barchetta naturalmente Aspettate che vedo la mappa Si chiama, ah, Bomberd Ah bo, Bomberd Battle Bello Comunque Allure, allure Una spada, che culo Meno male, meno male Un'altra cosa, spero finisca in fretta Ah, non t'avamo visto Sopra Dai, dai, dai Iniziamo bene che la fortuna è con me Con il mio spirito Cerchiamo chest Cerchiamo chest E non ce n'è Oh Non è mai uscita sta mappa, ecco perché non c'è mai giocato Chissà perché oggi è uscita Mi, per arrivare di là come c'è... È lontano Sedevo una barchetta Sono, non è bello... Guardate, guardate Basta Uh Uh, c'è un dispenser Che ha qualcosa al centro Non capisco che cosa Oddio Dispenser Ok, grazie Ah, mi crederebbe Dispenser di barche Ottimo Ehi, ok Perfetto Dispenser di barche Grazie mille Vabbè, ci mancherebbe che non ci fossero le barche Sì, sì Tanto perdisci È inutile che... Ci provi Ok Allora, facciamo subito l'arco qua Canna qua Questo qua Ah, non avevo visto che avevo i pantaloni di oro Ok Vi è anche questo E andiamo da quelli Che succede a questi? Guardate Boom E un altro? Ancora? Bastardo Mi è presa da dietro Scusate la parola Ok Andiamo a fiaire quella roba E poi uccide un attimo La costrucola Capito Ma no La Phone Man Ok Wow Pensavo fosse più difficile Combattere In questo Ma ho poi visto che Sì, sì Non so perché l'ho allontanato Era giusto per il gusto di farlo Sapevo che voleva essere Sapevo che voleva leftare Me lo immaginavo Ah, aspetta Mi ha visto la cuffia Ok Questa roba Inutile Via via Ciao ventola Come stai? Non ti sto bene Allora, allora Dove vado Oddio Mi piace ne una Come in messo Vediamo E' uno Steve Speriamo in bene Steve non c'è mai a fidarsi Devo fare la Steve Challenge Non so che sfida sarebbe Scusate, è arrivato un messaggio Scusate, scusate 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 Allora, è venuto Qui La valuta C'è la strega La valuta Forse Maybe Oh No Ok Andiamo da colorla Che ho intenzione di Farlo fuori Easy Ok Mi chiede Michele Ma come cazzo Non ci credo E' quello là Poi mi spiegate come ho fatto A arrivare là giù Ok, no, forse non era quello Dove sei? Ti ho perso Che pirla No, 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 no Questa No, no Non ci voglio credere Ma davvero l'ha fatto Madonna, meno male che t'ho sentito Un cuore Un cuore Madonna, meno male che t'ho sentito Se non sarei morto Grazie cuffie Sempre che mi salvate la vita voi Via, via So che non cambia niente Da questo e questo Però Ho paura di finirlo Quello d'ora Lo cambio Madonna le cuffie Quanto le amo Comunque Andiamo avanti Con la nostra explorazione Non ho trovato manco una tier 2 Quindi mi sto facendo tutte io le kill per l'armora Ho tre cose quindi posso farmi Come si chiama? La spada Che figata No Madonna che figata Come si chiama? L'incudine se non sbaglio Si Con la torcia Wow Io almeno le sto proseguendo le novità di minecraft Quindi è un po' difficile Queste cose Ok Proviamo ad andare di nuovo allo spell Così vado a vedere Se c'è la crafty Anche se non penso lui Tutto possibile Cos'è quel cosa? Wow Bella E' bella sta mappa E non lagga neanche Quindi Pug Io giocherò più spesso a questo punto Pino a quando mi troverò una ru Wow E se le fa tutte in corsa? No E se le fa tutte in corsa? No E' sempre primo No E' prima ancora però Da dritto Traguardo Arriva il traguardo Questa è la noia di una partita Capita? E' così Allora caffettiamo Perfetto E mi faccio anche le frecce Tanto qui la cerine non è che serva a molto Si dai proviamo questo loco con le frecce Perfetto Allora però Boh Non so che fare visto che Non vedo Non ne vedo Non vedo nessuno Va va Sentiamolo Perfetto 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 Oh Oh Giura a forza Allarme e marzo Vincerebbe A più coraggio Salta doppia Allarme e marzo Oh Oh Salviamo insieme Per la rotta grande blu Perché il tuo sogno No, non può aspettare più Perciò il veliero Mille onde inflangerà Per arrivare proprio là Là dove c'è il tesoro Giù la forza all'arremaggio Vincerà che ha più coraggio Forza a tutti all'arremaggio C'è un bastimento a pieno carico laggiù E d'abba a bordo l'hai avvistato pure tu Per un pirata questa è l'opportunità Di far provviste so che non ti sfuggirà Capitano tutti all'arremaggio Questo grido è come un tatuaggio Che si incide dentro i nostri cuori Di capacchi e fuggi i predatori Capitano tutti all'arremaggio Il tesoro non è di un miraggio Ma soltanto quando lo ritroverai Allora dove c'è l'azzo Ok Ne ho visto uno Ed è quasi tutto ferro buono Cioè buono un cavolo perché Ora rischio Facile facile Pensavo di metterci molto di più Vabbè Meglio per me Yes Allora Prima di tutto mi devo aggiustare l'inventario Ah sono un po' del figlio Non mi ne ho accorto C'è un po' sta roba inutile E' un po' proprio vero Ok Questo è quello Aspetta che lo metto Teniamocela Canada Pesca Ok Ma ne manca solo una Che figata Cioè in tutta la mappa vedo cose mai viste da me Che figata i portali dentro il ghiaccio Madanna Sono dei geni i CP Che hanno fatto le mappe Ok Iniziamo di nuovo a navigare Grazie a tutti Mi ero perso Non trovo più Non trovo più Non trovo più Se mi erano arrivati Viste che ci siete riferiti Lo rifai Vediamo cosa c'è Diamante Che bello stare da soli Tranquillo Un altro diamante Qua ci troveremo No Questa parte Un altro diamante E questa parte No Benissimo Sì Sì Ho sprecato i diamanti Per farmi gli stivali Mi annogliavo Non sapevo che cosa fare Sì Proprio così Mi donano 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 Mi ha fatto un altro giro Mi ha fatto un altro giro Siamo in quattro Quindi basterebbe Ci tenere Anche trovarne uno Ebb好的 Adesso Quaratra am Eccolo vai la vai la vai la vai ma pare che ce n'era uno di qui è possibile che sia quello là perché no no forse sì no no è possibile andiamo da quello è finito ah no scappato stupido guarda guarda che come mi muore spero che cura dai ancora una uuu aspetta che pio la barchetta che è pure subito che non ha preso la barchetta se proprio voleva scappare che gente eccola qua vabbè non volevo distruggere quella là perché con la barchetta ci ho fatto tanta ho fatto tanti viaggi con quella barchetta mi dispiace averla distrutta però volevo arrivare molto velocemente ok aveva diamanti però ho 46 pezzi direi che ho perso no barchetta dove vai eh lì qui forse vedo anche l'altro no è una freccia un po' cieco sono intimo ah ma si combatte nella barca ah no non sono intimo che cura che figo si combatte nella barca mi piace sempre di più sta manca uuu è una è morta a freccia tocca a te ora ciccio si si no ho sbagliato a parte che ho 50 mele d'oro quindi non è che puoi fare molto dove va dove va quanto è stupido aia però mi stava accendo il culo quelle frecce aspettate no blitz eh così me la mangio tanto per farvi vedere che sto perdendo sì in effetti è così però dai ora mi diverto il bello è che lui è in pelle a venirne che può fare molto dove va dove va dove vai basta dai mi sono stupato dove va che dobbiamo fare la rincorsa stupido pelle umana aia aia mi sta facendo il culo no la mangio così tanto per sprecarla perché eh ma che cazzo fai oh la la facile facile eh vabbò spero che vi sia piaciuto questo video non è stato molto divertente però spero vi sia piaciuto lo stesso e ci sentiamo con il prossimo ciao 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 a a Grazie a tutti.